L'insieme più della somma delle sue parti, partendo dalla definizione di percezione secondo la Gestalt, bisogna considerare l'intero come fenomeno sovraordinato rispetto alla somma dei suoi componenti. In questo caso, l'insieme delle opere definisce un elemento unico, di valenza indipendente e diversa dagli elementi individuali che la costituiscono, dove però ogni microposmo è da percepirsi esso stesso come risultato di percezione, dato da una complessa organizzazione dovuta dai processi conoscitivi influenzati dal nostro vissuto. Quest'opera gestaltica ha, tra le sue peculiarità, anche quella di un'essenza vuota, ovvero dove anche la vacuità e forma si prende congedo dalla presunzione di autonomia delle singole identità e forme, ma attraverso il vuoto si crea una costellazione infinita di relazioni ed energie. L'insieme è più della somma delle sue parti. L'insieme è più della somma delle sue parti.